Oggi ho assistito alla certificazione dell'Energy Tea Club. È stata veramente una bella esperienza da poter vivere come i ragazzi hanno acquisito consapevolezza rispetto ad alcune tematiche. C'è stato un altro momento che è il mastermind dove io per la verità ho ricevuto del come magari unendo insieme più menti in realtà riesci a creare delle soluzioni a delle problematiche che magari tu neanche pensavi che potessi da solo riuscire. Invece c'è stata una sorta di visione dell'insieme e da lì è uscito fuori il risultato giusto che magari serviva per la missione della tua anima.